19 condanne per un maxitraffico di droga tra Palermo, Calabria e Campania, pene pesanti per i clan mafiosi di Porta Nuova, Tommaso Natale e Brancaccio. L'operazione dei carabinieri, denominata Golden Green, risale al 2022. Vennero sequestrati cocaina, hashish e crack. Il processo, con il rito abbreviato, si è tenuto davanti al giudice per l'udienza preliminare, Cledia Maltese, alla sbarra vertice e gregari dei clan, che avrebbero fatto accordi con Camorra e Andrangheta per rifornire le piazze di spaccio del capoluogo siciliano. La pena più alta, 20 anni in continuazione con una precedente condanna, è toccata al boss Michele Michalizzi, genero delle capomafia Saro Riccobono. 15 anni e 4 mesi sono stati inflitti a Giuseppe Marsalone, 15 anni e 6 mesi a Vincenzo Vaglica. L'accusa in aula era rappresentata dai pubblici ministeri Bruno Brucoli e Federica Lachioma. 9 persone sono state assolte.